Ringone con mister Claudio Davitti, finalmente lo Scandicci ricomincia la preparazione, con che propositi si riparte? Sì, come sempre, la prima è sempre motivante, si arriva finalmente dopo due mesi di lavoro al primo atto, siamo consapevoli della nostra forza, abbiamo cercato di allestire una rosa omogenea, questi propositi come è normale che sia al momento sono importanti, sono la volontà nostra a far bene, di evitare il payout obiettivo minimo e di valorizzare i nostri giovani come è poi la nostra politica societaria.